Si sta avvicinando l'inizio dell'anno scolastico e noi siamo qui per lavorare insieme alla conferenza regionale sulla scuola. Il ruolo della città metropolitana è quello di aiutare le autonomie scolastiche a lavorare in sinergia con i cittadini e soprattutto con i genitori e gli studenti. Perché in questo ultimo periodo sembra che le scuole non siano più considerate il sistema educativo principale e invece noi siamo convinti nel ruolo istituzionale che abbiamo che proprio questo invece sia fondamentale. Attraverso le nuove normative le scuole ormai hanno un compito importante e la città metropolitana attraverso il CESE di Centro Servizi Didattici ha sempre cercato di aiutare attraverso la formazione dei docenti e degli studenti affinché proprio le scuole non si sentano sole in questo importante compito. Quest'anno avremo anche l'opportunità di avere dei corsi all'interno della sede aulica della città metropolitana, Palazzo Cisterna. E questo per noi è importante proprio perché la cultura del nostro territorio possa essere fruita anche dai ragazzi e dalle famiglie che intenderanno partecipare a questo percorso.